Su internet frasi inneggianti all'orologiaio, con la comparsa anche di qualche volantino per le vie di Milano. È errato dire ci sarebbe. C'è una spiegazione scientifica. Rettificare subito. La gente ha abbandonato il concerto creando grande confusione. La polizia ha comunque ristabilito l'ordine mettendo in sicurezza i cittadini. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un sabotaggio. È tutto da verificare. L'ipotesi di un sabotaggio non trova alcun riscontro. Mi comunicano ora che l'ipotesi di un sabotaggio non trova alcun riscontro. I rilievi effettuati dal comitato scientifico hanno confermato che il temporaneo malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche è stato determinato da un semplice sovraccarico di masse elettrostatiche, dovuto a un improvviso cambio atmosferico. Non c'è quindi nessuna ragione. Non c'è quindi nessuna ragione per attribuire il fenomeno all'apparizione dell'orologiaio sul palco.